Baglietti Holding, buongiorno. Per comunicare con l'ufficio di presidenza, digitare uno. Ci siamo già trovati nei casini e siamo sempre venuti fuori. Non si arriva in così pochi anni dove siamo arrivati noi se non si la senta sempre il burrone. Comunque il notario è già tutto pronto. L'importante è averlo qui, disporre di lui senza che sospetti niente, nessuno. Ma vi rendete conto di cosa state dicendo? Sabato! Trippa! Ma lo vedi che siamo in riunione, oh! Ha telefonato papà! Cosa vuole da me, mamma? Si sposa e ti volerà come suo testimone. Se noi trasferiamo al ragazzo i pacchetti azionari di... Mi ha detto, sai, lui è il mio figlio più piccolo e quindi è giusto che abbia quello che hanno avuto gli altri. Ma il nuovo presidente lo sa che dagli ultimi accertamenti risulta che abbiamo evaso il fisco per più di 55 milioni di euro. Ma li devi dare tu? No, tu. Ha sposato nostra madre il giorno in cui se ne è andato via. Poi cinque anni fa hanno divorziato, sempre attraverso avvocati. In fondo è come se non ci sia mai stato. Sai qual è la prima cosa che ha deciso di fare il tuo fratello? Ti compro la più bella tavola calda di tutta Bologna. Hai capito? No, è un'operazione indecente. Ma poi non lo so, dico un padre che sa di avere un figlio così. Così come? Io l'ho mai visto fare qui autostop! Qui sono mignote! Io no, mignotta! Come faccio? E bisogna piazzarla sta ragazza. Carlotta poi? Pure. Chi sei riuscita? No, direi. No, pure qui si fa venire puttana. Tuo padre è capace di entrare in un albergo e non prenota una stanza. Ma se gli gira, lo compra. Ce l'ha fatta aperta? No, pure qui si fa venire puttana.